E' praticamente una settimana che non spengo il computer per monitorare in tempo reale l'andamento delle mie iscrizioni ma finalmente possiamo dirlo con certezza abbiamo raggiunto e superato i 100.000 iscritti e si parlo al plurale perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile di voi, di te, proprio tu che stai guardando questo video e se vado indietro con la mente ripenso a quel 2014 quando ho deciso di iniziare a caricare qualche video su YouTube senza avere assolutamente idea di cosa stessi facendo senza sapere anche cosa volessi portare sono partito dal calcio che è la mia grande passione e sono arrivato a tutto questo penso soprattutto a quei poveretti che all'inizio hanno voluto darmi fiducia e che hanno contribuito tantissimo a farmi arrivare dove sono ora come per esempio Andrea Vissio, Alessandro Franco, Valerio Roma Massimo Galaverni e tantissimi altri che purtroppo adesso non mi vengono in mente ricordo con gioia anche il supporto che mi diedero i miei genitori mia sorella, i miei amici, la Bianca quando decisi di intraprendere un progetto che per un ragazzo di 22 anni era abbastanza inusuale inoltre mi tengo strettissimo l'amicizia e tutto l'affetto stretto con i Brailless dato che da ormai 7-8 mesi sono la mia seconda famiglia e parlando di effetto non posso assolutamente non citare le fiere dove l'affetto è stato veramente fisico da parte vostra e sinceramente non credo neanche di meritarmi tutto ciò eppure ad oggi posso vantare un esercito di 100.000 persone sempre pronte a supportarmi in tutto quello che faccio basti pensare che Garibaldi partì per il regno delle due Sicilie con solamente 1000 uomini mentre io posso vantarne 100 volte di più cazzata parte posso solamente dire di essere felicissimo perché non pensavo di avere le carte in regola per raggiungere questo traguardo sono stato mesi interi in un limbo maledetto mentre giravo intorno ai 100.000 iscritti senza raggiungerli mai seriamente ma dici foolish questo speciale 100.000 iscritti di cosa parlerà esattamente? ve lo spiego subito diciamo che mi piace essere particolare e quindi per festeggiare ho deciso di fare qualcosa di un pochino diverso non ho mai parlato tanto di quello che accadeva nella mia vita personale sul canale youtube perché mi è sempre piaciuto tenere distinte le due cose ben nette, separate oggi invece voglio rivelarvi tanti particolari sulla mia vita privata che nel bene o nel male hanno influito sul mio carattere e quindi anche su quello che porterò qui sul canale prima di iniziare però ci tengo a precisare due cose la prima l'avete già vista pure voi ho cambiato il nome del canale youtube addio foolish e benvenuto Luca Toselli e se avrete la pazienza di ascoltare questo video capirete anche il perché la seconda è una raccomandazione perché solitamente quando faccio video di questo genere ottengo più disiscrizioni che altro perché probabilmente non riesco a esprimere bene il concetto che vi voglio far arrivare quindi con calma mettete giù il ditino da quel tasto di iscriverti e ascoltatemi ascoltatemi e basta anche perché poi torno a 99.000 iscritti e non ho voglia di fare un altro speciale per i 100.000 partiamo da quello che è un cliché banalissimo nei commenti di youtube il sei cambiato chi non l'ha mai scritto in un commento di youtube o ancora chi da creatore di contenuti non l'ha mai letto nei suoi commenti e non ditemi di no perché non ci credo affatto ebbene per la prima volta in assoluto nella storia di youtube italia io Luca Toselli lo ammetto sì sono cambiato non sono più la stessa persona che ero prima o perlomeno non sono più la stessa persona che ero quando ho iniziato a fare i video sono cambiato e molto non so ancora se in meglio o in peggio ma il mio carattere è mutato in maniera spropositata negli ultimi 6 o 7 mesi mi sono accadute tante cose che hanno modificato profondamente il mio essere e mi sento maturato tantissimo da tutte queste cose non mi piace troppo parlare davanti a una telecamera ma ho deciso di vuotare il sacco e quindi togliamoci questo dente anche perché in tanti me l'hanno chiesto nei commenti e io ho sempre cercato di ignorare tutti ma ormai è arrivato il momento di dirvelo sì io e la bianca ci siamo mollati e questa è stata probabilmente una delle mazzate più grandi della mia vita se non la più grande in assoluto questo ha influito tantissimo sulla mia personalità ma è stato solamente l'inizio del cambiamento in ottobre poi sono riuscito a concludere un progetto che avevo iniziato ben prima di youtube e cioè ho finito l'università mi sono laureato con 90 ed ora sono dottore in informatica e questa è stata una delle cose che mi ha reso in assoluto più fiero e più orgoglioso di me stesso ma me ne sto rendendo conto solamente ora ma il mio status da disoccupato è durato meno di un mese perché da novembre lavoro in un'azienda e almeno fino a marzo sarò impegnato in questo progetto vedremo poi se saranno abbastanza soddisfatti di me e del mio rendimento e se si vorrà prolungare il contratto oppure no insomma la mia vita dalla seconda metà del 2016 è stata completamente stravolta è cambiato tutto quello che invece è rimasto normale è l'affetto della mia famiglia e dei miei amici soprattutto di questi ultimi perché negli ultimi anni li avevo un pochino accantonati per modo di dire la mia priorità in precedenza era la bianca e quando non passavo del tempo con lei dedicavo il mio tempo libero al calcio, a dei lavoretti che facevo ogni tanto e appunto a youtube insomma sono sempre stato impegnatissimo e quello che avevo sacrificato maggiormente era il tempo da passare con loro e se devo dire la verità un pochino mi è dispiaciuto e badate bene che io adoro youtube ma la vita virtuale non sarà mai meglio della vita reale e in questo momento di cambiamento nella mia real life mi sto domandando se quello che sto facendo su web è veramente quello che voglio fare ok ripeto non premere ancora il tasto di iscriviti aspetta fammi arrivare a dove voglio andare a parare sono del 1992, ho 25 anni, sono single, ho tanti amici, ho un lavoro, sono laureato, gioco a calcio ho un canale youtube con 100.000 iscritti e vi posso assicurare che far coincidere tutte queste cose non è per niente facile soprattutto se vuoi anche garantire una certa continuità ai tuoi contenuti io volevo fortemente i 100.000 iscritti e finalmente sono arrivati magari anche sacrificando il mio tempo libero e mettendo youtube davanti a tanti impegni della mia vita reale da quando ho aperto il canale ho sempre detto che questo sarebbe stato il mio obiettivo principale il mio obiettivo principe dove volevo arrivare insomma questa è la soglia che mi ero garantito e ci sono arrivato e ne sono soddisfatto perché è l'ennesima dimostrazione che se voglio qualcosa nella mia vita vado e me la prendo è un'altra cosa sì che mi rende fiero di me stesso chiunque con un canale youtube appena arrivato ai 100.000 iscritti cercherebbe di mettere la quinta e di prendere tutto quello possibile magari cercando di farlo diventare un lavoro a tempo pieno io invece sto per fare esattamente il contrario perché voglio liberarmi la mente voglio liberarmi da tutte le pressioni e voglio finalmente essere libero da quell'angoscia che mi diceva guarda Luca per forza per arrivare a quel traguardo devi caricare 2, 3, 4 video a settimana io non voglio più niente da youtube perché mi ha già dato tutto quello che cercavo da lui degli amici fidati cioè i brailles un passatempo e due soldini extra da investire nelle mie passioni ed oggi ho tutto questo e io mi accontento non voglio esagerare perché so che questo nel breve periodo è effimero e sarà destinato a terminare mentre tutto quello che avviene al di là di questo schermo è reale, concreto, proprio come la vita vera inoltre su youtube italia è pieno così di canali di gaming e volente o nolente il mio in parte lo è eppure mi piacerebbe essere ricordato non solo per fifa ma anche per altro per fare un esempio con i nomi perché so benissimo che alla fine è quello che volete sentire io non voglio essere l'ennesimo Dexter, l'ennesimo Fabi J, l'ennesimo Stepney, l'ennesimo Cicciogamer89 io voglio essere qualcosina di diverso io voglio essere uno Yotobi, un Cydonia, un Blur insomma ok la componente gaming ma non deve e non può esserci solo questo e qui mi rivolgo a voi cari miei belli iscritti perché sarete voi a dover essere bravi in questo le carriere, i draft, le live sulla serie A, il fantacalcio, tutto questo rimarrà sul canale non andrà da nessuna parte ma abituatevi perché ci saranno anche contenuti un attimino diversi questo deve essere il mio passatempo e nulla più perché io non sono un youtuber professionista io sono solamente un ragazzo che ha un canale su cui carica dei video e nel mentre parallelamente sta cercando di costruirsi la vita migliore possibile ma la vita vera sono giovane, sono neolaureato e questi saranno sicuramente gli anni più importanti e decisivi della mia vita e non posso rischiare di buttare via per inseguire un sogno che al 99% sarà destinato a rimanere tale so che magari per voi è difficile capire questo mio ragionamento e questa mia scelta ma ci ho pensato a lungo, sono mesi e mesi di ragionamento e credo che il 2017 appena iniziato e i 100.000 scritti appena raggiunti siano un limite, una specie di linea tracciata per farmi dire ok Luca questo è il momento di cambiare la tua vita tornerei ad essere protagonista a 360 gradi di tutto per questo ho dovuto uccidere Foolish io infatti non mi sento più Foolish, mi sento sempre di più Luca Toselli ecco perché ho cambiato il nome del canale ed ecco perché ho voluto aspettare i 100.000 iscritti questo era il modo più bello e personale per festeggiare questo traguardo incredibile avete mai visto uno speciale 100.000 iscritti dove il creatore di contenuti si mette a nudo come sto facendo io? non credo come credo di essere anche uno dei pochi creatori di contenuti in Italia ad essere laureato ma questa è un'altra storia ricapitolando quindi i contenuti che conoscete sul canale non cambieranno anzi dovete solamente abituarvi a qualche altro video in più quello che cambia è solamente il nome del canale e la pubblicazione non più così frequente come 3 o 4 mesi fa quando avevo molto più tempo a disposizione a dedicare al canale è giusto che riprendi in mano le ridini della mia vita e per farlo devo per forza mollare la presa da qualche altra parte ma d'altronde si sa i contenuti migliori su YouTube Italia sono quelli che non escono tutti i giorni come diceva quello con la barba qui si parla di qua li ta Nietzsche diceva che Dio è morto invece oggi è morto foolish una morte sicuramente in dolore perché dalla sua dipartita rinascia dalle ceneri come l'araba fenice Luca Toselli e come disse Garibaldi ai suoi grazie mille anzi grazie centomila scherzi ed emozioni a parte sarò banale ma ci tenevo assolutamente a ringraziarvi centomila iscritti sono tantissimi e tutte le volte che dicevo di volerci arrivare in realtà non ci credevo neanche io e invece eccoci qui in realtà è già da un paio di mesi che ho cambiato il palinsesto del canale quindi la pubblicazione non la vedrete neanche così modificata la cosa che sicuramente cambia più di tutte è la mia libertà di mente dato che sicuramente mi sento sollevato mi sono tolto un grandissimo peso sono diventato grande sono maturato e credo anche tanto rispetto a quando ho iniziato è naturale poi modificare i contenuti il modo di vedere le cose e anche il tempo da dedicare a qualcosa che deve rimanere un hobby e nulla di più un hobby bellissimo che mi ha dato tantissima soddisfazione e che sicuramente me ne darà ancora tante un grazie è fin troppo riduttivo è banale come vi ho già detto ma è anche l'unica cosa che posso darvi e quindi grazie e alla prossima hi guys grazie a tutti Grazie a tutti.